famiglia in america e la famiglia in america ha mandato qua per un anno si è bello di fare un po' di esperienza va bene così? si è bellissimo questo non è regalo? no è per loro sono qui non ci siamo vicini a a ginevra in francia però 10 allora io vado a vedere due trezzi ok non so neanche io Luca Luca lo chiami un attimo? gli dici quanto va la crema di limone? gli chiedi quanto va la crema di limone?